Cosa è per lei un migrante? Una persona che viene da fuori in un altro paese. Se fosse una migrante cosa si aspetterebbe dal paese in cui si reca? L'accoglienza di tutto il paese. Ricordi che noi siamo migranti? Noi siamo migranti, comunque. Siamo siciliani che abitiamo in Piemonte, quindi anche noi nel nostro piccolo siamo migranti. Cosa penso della situazione sull'immigrazione in Italia? Un gran problema. Purtroppo ci sono persone che la pensano diversamente da noi. Noi accoglieremo tutto. Tutti però che ci sia comunque il lavoro anche per le persone che vengono da noi. Che stiano bene comunque anche loro. Cioè in qualsiasi parte del mondo l'importante è che stanno bene. Come dobbiamo stare bene tutti. Ciao a tutti, sono Luisa Galliano, ho anche detta Benedetta Farodi. Benvenuti nella mia cucina. Oggi per questa specialissima puntata abbiamo degli ospiti speciali. Venite con me. Qua abbiamo i nostri fantasici chef, Marda e Marco. La doppia M. M e M. Stanno facendo una splendida pasta sugo ricotta noci. con pasta scotta e un po' di cose strane. Non è scotta. Non è scotta, ecco. È bollente. Ecco le nostre splendide panciulle che stanno cucinando. Pollo, riso, mica pizza e figli. Questa è roba seria, eh. Questa è roba seria. Roba seria. Tipica cucina nitoriana direttamente qua per voi per questa stipenda acquistata. Grazie a tutti. Un migrante è una persona che si trasferisce da uno stato all'altro che scappa dalla guerra. Non necessariamente dalla guerra. E se ne fosse migrante cosa si aspetterebbe del paese in cui si era? Aspetterei di essere accolto in qualche modo all'interno forse di una serie di regole. In questo momento manca. Ok. Che cosa pensi della situazione sull'immigrazione in Italia? In Italia c'è tanta roba da mettere a posto. Secondo me la risposta dovrebbe essere europea. e quindi c'è ancora tanta roba da fare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.